Sì, per i valori che ci sono delle squadre, se tu hai dall'altra parte Messi e dall'altra parte c'è Ronaldo, sicuramente hai dei vantaggi in più. E devo dire che per valori di squadra, sì. Per quello che ho visto di atteggiamento di squadra, io sono molto contento della personalità mostrata. Beh, la qualità non la devo dire io. Credo che è evidente che ci sia più qualità dall'altra parte rispetto a noi. Noi siamo una squadra più fisica, magari abbiamo meno qualità anche di altre squadre. Condivido pienamente quello che stai dicendo, di aver avuto in alcuni momenti della gara più coraggio nel verticalizzare. Però sai benissimo che quando vieni qua non puoi pensare, con il Barcellona, di poterla dominare o avere tutto a tuo favore per 90 minuti. Al contrario, secondo me abbiamo già gestito in diversi momenti della gara bene, paradossalmente, però è finita 4-1. E credo, lo ribadisco per l'ennesima volta, per me non meritatamente, nel senso che meritevamo qualcosina in più.